Cari amici, oggi vi parlerò di una delle più grandi tragedie che abbiano colpito il Trentino Alto Adige in epoca moderna, il disastro della Val di Stava, che causò la morte di 268 persone. Si tratta del più grave disastro industriale dovuto a crollo di invasi per sterili di miniera. Si verificò il 19 luglio 1985 nella Val di Stava, per l'appunto, in Trentino. L'inondazione fu causata dal cedimento degli argini dei bacini di decantazione della miniera di Prestavelle che causò la fuoriuscita e discesa valle di circa 180.000 metri cubi di fango che travolsero violentemente l'abitato di Stava nel comune di Tesero. Il giacimento di Prestavelle si sviluppava sulle pendici occidentali e meridionali del Monte Omonimo tra quota 1900 e 1500 metri nei territori comunali di Tesero e Varena. I minerali prevalenti erano fluorite, quarzo, calcite, galena e blenda. Lo sfruttamento industriale per l'estrazione di fluorite iniziò nel 1934. Dal 1941 la miniera venne gestita dalla società Montecatini alla quale subentrarono, fino al 1980, società del gruppo Montedison e dei gruppi Egam ed Eni. Dal 1980 al 1985 fu gestita dalla società Prealpi Mineraria. Torniamo alla fluorite. Come molti minerali, essa non viene estratta allo stato puro. La separazione dagli altri minerali e rocce con le quali si trova in natura può avvenire con due sistemi. Il metodo gravimetrico è il sistema della flottazione. Attorno al 1960, Montecatini decise di costruire un impianto di flottazione al fine di ottenere fluorite pura al 97-98%, utile per l'industria chimica. Un impianto di flottazione necessita di molta acqua e, a poca distanza, di un luogo dove innalzare la discarica per il deposito e la decantazione del fango residuato dalla lavorazione. Esso si basa sulla proprietà dei materiali, ridotti in polvere finissima, di aggregarsi all'acqua, aiutati in questo dall'aggiunta di particolari sostanze chimiche. Le miscele di polveri, acqua e agenti chimici vengono immesse in vasconi, chiamati celle di flottazione, nei quali viene iniettata aia che induce la formazione di una densa schiuma. Le sostanze chimiche favoriscono l'aderenza delle particelle di minerale alle bolle di schiuma che le trascinano verso la superficie, mentre i fanghi di scarto vengono convogliati in appositi bacini di decantazione. Mano a mano che il fondo dei bacini cresce, gli arcini vengono progressivamente innalzati. Possiamo quindi dire che i bacini di decantazione sono discariche minerarie e servono per la decantazione, la consolidazione e lo stoccaggio dei fanghi residuati dall'arricchimento del minerale mediante flottazione o lisciviazione. Il primo bacino di decantazione, a servizio della miniera di Prestavelle, fu impostato nel 1961 su un terreno acquitrinoso, con pendenza media del 25%. Il manufatto venne impostato a una distanza di 800 metri circa e a una quota di 150 metri più elevata rispetto al fondo valle, sede di numerosi insediamenti residenziali e turistici. Il primo bacino venne predisposto con la costruzione di un arginello di partenza, cosiddetto rilevato di base. Sopra questo arginello di base venne poi, via via, innalzato l'argine in sabbia. Alla fine del 1969 venne impostato un secondo bacino al di sopra del primo. L'argine di base del secondo bacino fu impostato a monte del primo bacino. Al momento del crollo, l'altezza del bacino inferiore era di 25 metri, quella del bacino superiore di oltre 34 metri. Insieme, essi costituivano pertanto un'opera in terra alta quasi 60 metri e contenevano circa 300.000 metri cubi di materiale di scarto. L'argine del bacino superiore aveva una pendenza di 38 gradi. Ma com'era la vita a poche centinaia di metri dai bacini? La conca di Stava, dove i versanti si addolciscono ospitando l'omonimo abitato, ha da sempre rappresentato un luogo di aggregazione per chi viveva, lavorava o era ospite nella valle. A partire dagli anni 60 queste zone ricevetterono la decisa spinta in chiave turistica e diventarono una mita meta per le vacanze estive. Nel 1985 gli alberghi sulla via Mulini di Tesero e a Stava erano cinque, il Dolomiti, il Rio Stava, l'Erica, il Miramonti e, appunto, lo Stava. Il 19 luglio, alle ore 12, 22 minuti e 55 secondi, in piena stagione turistica, una disastrosa colata di fango originatasi dal crollo improvviso dei due bacini di decantazione della miniera investì in pieno l'abitato di Stava. Ma vediamo cosa accadde. L'argine del bacino superiore crollò, determinando anche il collasso del bacino inferiore. Il crollo avvenne in maniera improvvisa e fu accompagnato da un forte boato che fu seguito dal rapido propagarsi di una colata di 180.000 metri cubi di fanghi semifluidi che, in breve, raggiunse la velocità di ben 90 km orari. La massa fangosa spazzovia persone, alberi, abitazioni e tutto quanto incontrò nel percorrere una distanza di 4,2 km fino ad esaurirsi nella confluenza con il torrente a Visio a Tesero. La frana causò la morte di 268 persone e il ferimento di 30, la distruzione completa di tre alberghi, 53 case e 6 capannoni. Oltre un centinaio di persone risultarono senza tetto. 8 ponti furono demoliti e 9 edifici gravemente danneggiati. Dei 268 morti, 28 erano bambini con meno di 10 anni, 31 i ragazzi con meno di 18 anni, 89 uomini e 120 donne, 11 le regioni italiane coinvolte nel lutto, dal momento che molte delle vittime si trovavano in vacanza in quei luoghi ameni. Uno stato di fango, tra 20 e 40 cm, ricopriva un'area di 435.000 metri quadri, circa, per una lunghezza di 4,2 km. Ed ecco la potente macchina dei soccorsi. All'opera di soccorso hanno partecipato oltre 18.000 uomini, di cui oltre 8.000 vigili del fuoco volontari del Trentino e 4.000 militari del IV Corpo d'Armata Alpino. I primi ad accorrere furono i vigili del fuoco volontari di Tesero e della Val di Fiemme. L'opera di soccorso venne coadiuvata da 19 elicotteri, 774 automezzi, 137 mezzi speciali, 16 gru a braccio lungo, 72 fotoelettriche, 5 battelli, 26 ambulanze, 27 cucine da campo, 144 radioportatili e 4 ponti radio. Il maggior numero delle vittime fu recuperato nelle prime ore, ma la ricerca si protrasse per tre settimane. Ma torniamo alle cause di questa ingiustificata tragedia. In oltre 20 anni la discarica non fu mai sottoposta a serie verifiche di stabilità da parte delle società concessionarie o a controlli da parte degli uffici pubblici cui compete l'obbligo del controllo a garanzia della sicurezza delle lavorazioni minerarie e dei terzi. La rapida colata di fanghi semifluidi che seguì al collasso delle due discariche può essere spiegata invocando un fenomeno ben noto in geotecnica, la liquefazione per filtrazione che comporta la perdita di resistenza dei terreni saturi sotto sollecitazioni statiche. Questo fenomeno avviene come conseguenza delle fluttuazioni dei livelli idrici che producono filtrazioni dell'acqua dal basso verso l'alto. La causa del crollo venne individuata nella cronica instabilità delle discariche e in particolare del bacino superiore che non possedevano coefficienti di sicurezza minimi necessari a evitare il franamento. Inoltre, la decisione di accrescere l'argine con il sistema a monte, il più rapido e il più economico, si rivelò essere anche il più insicuro. Dopo la catastrofe, vennero nominati dal Tribunale di Trento la Commissione Ministeriale d'Inchiesta e i Periti. L'iter processuale per il disastro della Val di Stava si concluse nel giugno 1992 con la condanna di 10 imputati colpevoli dei reati di disastro colposo e omicidio colposo plurimo, cioè i direttori della miniera e alcuni responsabili delle società che decisero la costruzione e l'accrescimento del vaccino superiore dal 1969 al 1985 e i responsabili del distretto minerario della provincia autonoma di Trento che non effettuarono mai alcun controllo sulle discariche della miniera di Prestavelle. Le pene di reclusione sono state ridotte e condonate nel corso dei vari gradi di giudizio e nessuno dei condannati ha scontato la pena detentiva. Il danno complessivo fu valutato in oltre 132 milioni di euro e furono condannate a risarcimento le società che nello stesso periodo ebbero in concessione la miniera di Prestavelle o intervennero nelle scelte relative alla discarica. Stava è stata ricostruita ed è ritornata un luogo a meno come lo era prima del 1985. Ma questa tragedia farà da monito per il futuro? è stato ricazato un luogo a meno